Anche Napoli avrà il suo impianto di compostaggio per trasformare rifiuti in risorse. Nascerà a Scampia e sarà in grado di lavorare 20.000 tonnellate di umido l'anno, pari al 30% del totale. Il progetto è ambizioso, a basso impatto ambientale e comporterà un abbattimento dei costi di smaltimento e la creazione di nuovi posti di lavoro. Si conferma una scelta strategica non alle discariche e non agli inceneritori, non solo nella città di Napoli ma nella città metropolitana della nostra città. La proposta arriva da una cordata di imprese, costruttori e cooperative sociali che parteciperanno al Bando europeo, a breve pubblicato da SIA, per la realizzazione del servizio e prevede l'uso di tecnologie innovative per generare biometano e compost di qualità senza alcuna combustione dei rifiuti. Non è un'impiantistica né tossica né nociva, sono degli impianti di compostaggio previsti in tutte le normative e sono gli impianti di compostaggio che la comunità aspettava da anni. L'impianto di compostaggio tratta l'umido e gli scarti della cucina per intenderci. Quindi, avendo anche noi aderito all'implementazione delle raccolte differenziate, noi non possiamo continuare a chiedere la raccolta differenziata per non avere gli impianti. Voglio ricordare che non c'è impatto ambientale perché sono 4-5 autocarri al giorno, tra l'altro con l'asse mediano che si riaprirà a Scampia, non si passerà per il quartiere di Scampia, si crea lavoro e non ci sarà inquinamento di nessun tipo. L'impianto occuperà un'area di circa 33.000 metri quadri alle spalle dell'isola ecologica di Scampia in Viale della Resistenza e tratterà quotidianamente 60 tonnellate di rifiuti costituiti da scarti di cucina, sfalci e potature. Stop quindi ai trasferimenti fuori regione, che hanno un costo di circa 140 euro a tonnellata e previsto un risparmio per l'amministrazione di oltre 800.000 euro. Massima trasparenza, massimo controllo pubblico, ingresso dei comitati sarà un impianto di cristallo, come lo abbiamo sempre detto, visitate gli impianti di compostaggio. In tutte le altre regioni vi renderete conto che sono degli impianti assolutamente funzionali e trattano la frazione organica, quello che esce dalle nostre cucine. Il progetto dell'impianto a Scampia è innovativo anche dal punto di vista finanziario perché senza alcun impegno per il comune beneficerà degli strumenti di finanza comunitaria messi a punto da Banca Prossima, l'istituto del gruppo intesa San Paolo specializzato nell'economia sociale. Per la prima volta sarà adottato un titolo di riduzione di spesa pubblica attraverso l'attivazione di impresa sociale. La realizzazione dell'opera è inoltre aperta alla cittadinanza in quanto la banca metterà sul mercato dei bond che i cittadini potranno acquistare. Siamo soddisfatti anche perché in questi giorni metteremo in campo un'altra operazione molto significativa, quella di andare verso una grande e unica azienda di igiene urbana sull'area metropolitana di Napoli, Asia-Sapna. Quindi possiamo dire di stare veramente a una svolta per dire per sempre no all'emergenza e sia a una fase strutturale sia al trattamento della frazione umida. Napoli diventa modello non più solo campano e diciamo napoletano ma si candida a essere modello su scala nazionale e anche grandi gruppi sia del terzo settore che delle banche e del mondo della finanza l'hanno capito. Siamo credibili, abbiamo risanato i conti e oggi è un giorno veramente importante per l'ambiente e la salute pubblica dei nostri territori.